La prontezza e l'efficacia dei primi soccorsi possono fare la differenza tra la vita e la morte. Ogni luogo, pubblico e privato, dovrebbe essere dotato di un defibrillatore, ma è fondamentale la formazione dei cittadini che non hanno esperienza in campo medico o sanitario. La sicurezza viene prima di tutto anche nello sport, per questo la direzione e la proprietà di Pesaro Fesse hanno voluto offrire ai ragazzi, agli allenatori e ai dirigenti del gruppo sportivo Muraglia Calcio, un corso gratuito di formazione. Noi collaboriamo e progettiamo assieme alla presidenza dell'ente sportivo, del GS Muraglia, e ringrazio per questo il presidente Stefano Falcioni, Noi collaboriamo da anni a tutta la progettualità che riguarda l'attività sportiva dei giovani e quindi molto facilmente abbiamo legato la nostra esperienza di formazione aziendale con l'esperienza della progettualità sportiva dei giovani. L'associazione Formiamoci, in ultimo, ovviamente è stato il motivo chiave che ci ha permesso di poter dire ok, il progetto si può fare. È una piccola attività, un piccolo progetto che sicuramente sarà di stimolo anche per altre entità imprenditoriali a donare una piccola parte delle loro capacità e delle loro esperienze anche ad altri gruppi di giovani. Quando ci hanno proposto questa iniziativa, poi commentato il presidente Falcioni, abbiamo aderito con entusiasmo perché la formazione di chi è a contatto con il mondo sportivo, aggiunto, è importante per salvare le vite in caso di eventi avversi. Dopo la parte teorica eseguita in modalità online, sabato scorso si è passati alla pratica direttamente nell'impianto di muraglia. Ringraziamo Pesoro Fest, una persona di Roberto Marchetti che è il direttore, di Gale Giuseppe che è il presidente, con cui abbiamo già rapporti di collaborazione sia in ambito sportivo ma anche in ambito lavorativo. Ci conosciamo, insomma, collaboriamo da diversi anni. Pesoro Fest tiene molto alle questioni riguardo la salute, la formazione, la prevenzione degli infortuni. Quindi ecco, questa iniziativa, questa attività si inserisce un po' nelle azioni che di solito Pesoro Fest sta portando avanti sia a livello imprenditoriale, però anche a livello sociale. Naturalmente ringraziamo anche l'associazione Formiamoci, nella persona di Matteo Esposito, per la disponibilità e la competenza che hanno offerto per questa attività.